we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi porca di quella porca un bel po di novità per quello che riguardano i prossimi giorni di fortnite come sapete ieri ci sono state le prime sessioni di qualifica per la world cup le abbiamo fatte anche noi in live a parte piccoli problemi purtroppo non siamo riusciti a qualificarci per poco alla fase finale di oggi ma non preoccupatevi perché comunque le partite in singolo saranno altre 4 ogni due settimane ma nel video di oggi ragazzi parliamo dei giocattoli ufficiali finalmente con tanto di gameplay di fortnite ne avevamo già parlato qualche tempo fa finalmente sono arrivati e sono disponibili ovviamente da acquistare la nuova bomba in arrivo qua ragazzi si fa seria la cosa trovati dei codici che starebbero ad indicare l'arrivo di uno nuovo oggetto lanciabile o anche un file audio e se c'è tempo vi voglio anche parlare di una probabile nuova modalità a tempo limitato in arrivo non si sa se in questa season o se nella prossima vi dico perché l'idea è questa ma voglio prima ringraziare un sacco di voi che utilizzano ogni giorno il mio codice creator xiuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live ma prima però ragazzi la domandina e qua ve la devo fare e qua ve la devo fare è una domanda rivolta a una parte di voi sono curioso di sapere quanti punti hai fatto nella qualifica della world cup dai ragazzi voglio sapere quanti ne avete fatti io purtroppo mi sono fermato a 16 ma abbiamo bruciato 5 partite bruciate seriamente per colpa dei bug grafici scrivetemi invece qua sotto nei commenti il vostro risultato voglio proprio saperlo ma quindi ciancio le bande e banda le ciance andiamo subito subito a vederli questi giocattoli di fortnite magari per chi segue i miei video da tanto questa immagine non è nuova ovviamente la casa che li produce si chiama nerf e questo è solo un esempio forse il top dei giocattoli che produce come vedete ragazzi una riproduzione del a me sembra a me sembra un tac ragazzi anche se in realtà non spara proprio come un tac però mi sembra proprio la riproduzione del tacchino insieme a tutta un'altra serie di giocattoli a partire dalla pistola silenziata per arrivare a il lama a una pistola che non so bene quale sia questa qua la 999 e ha un modello di lanciarazzi tutti questi giocattoli sparano davvero dardi in gomma semi rigida bellissimo il metodo di caricamento come le pistole vere quindi si caricano i dardi nel caricatore si infila nella scocca e si spara ma come vi anticipavo voglio farvi vedere di più ragazzi questo faccione sorridente è un tizio del canale youtube the dude perfect guardate un po' che storia c'è un percorso addirittura creato da fortnite e da nerf che ci mostra come funzionano questi aggeggi davvero molto interessanti e sicuramente collezionabili per chi vuole tenere tutta l'oggettistica ufficiale di fortnite guardate qua sparano pure veloci ragazzi io quando ero ragazzino giocavo con le pistole d'acqua ma qua è molto più divertente cioè è gigante il coso giallo raga guardate quanto è grande è veramente molto molto grande lui qua è obbligato a stare attaccato all'anello spara intanto dardi anche a una distanza abbastanza interessante non è che è proprio un giocattolo da bambini arriva alla fine del percorso contento come una pasqua a capodanno e comunque ragazzi questi giocattolini li trovate su amazon a prezzi veramente non assurdi potete farci un pensierino io ci ho trovato anche la borraccia della chug che è veramente qualcosa di meraviglioso ma andiamo avanti e parliamo della nuova bomba ragazzi che cosa vi sto facendo vedere quello che stiamo vedendo non è altro che una parte di codice con tanto di probabile missione di una delle settimane che mancano al termine di questa season e come vedete is a shadow bomb in different match utilizza una bomba d'ombra in partite diverse adesso la domanda è che diamine è la bomba d'ombra non esistono immagini di questa bomba esiste solamente questa scritta ma vi posso confermare che esiste invece la bomba in sé perché ho un file audio che vi vado a far sentire lo censuriamo leggermente per evitare grossi problemi di copyright questo è l'unico file audio relativo alla shadow bomb non sappiamo altro ma appena saprò qualcosa lo saprete di certo anche voi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo del bug accaduto nello shop di ieri notte tutti quelli che lo hanno aperto io l'ho aperto in tempo reale nella skin ipernova al posto che il backpack che vedete qua sopra porco mondo c'era il backpack del girasole quindi se non ricordo male era delle skin dei contadini che cosa è successo? questo ovviamente è stato fixato questo backpack ed è stato poi disponibile il suo ma tutti quelli che hanno acquistato la skin ipernova prima del fix si sono in poche parole beccati due backpack al prezzo di uno perché questo è il tweet ufficiale che dice tutti quelli che hanno acquistato il pack l'outfit ipernova con il backpack sbagliato non devono preoccuparsi perché glielo lasciamo quindi ragazzi se l'avete preso a me è sembrato un po' strano infatti che c'era il backpack del girasole con la skin ipernova però ho scritto nel post che ho pubblicato su youtube shop buggato tanta tanta roba anche per questa cosa fermiamoci un secondo anche a parlare ragazzi delle sfide dei bucanieri vi ricordo ancora pochi giorni per terminarle e quindi sbloccare la nuova emote che secondo me è ignorantissima e divertentissima abbiamo sbloccato il nostro spray col pappagallo il deltaplano lo standardo con la rosa dei venti mi sembra quella e al termine di tutte le sfide l'ultimo premio sono mille v bucks se non ricordo male sbloccherete le emote del tizio che mette la chiave nel forziere viene schiaffeggiato prepotentemente dal polipazzo ancora due secondi per parlarvi di un piccolo aggiornamento sugli scavi di sponde del saccheggio questa è l'immagine che conosciamo tutti della schermata di caricamento della settimana 7 guardatela in alto il contorno di quel buco non è altro che esattamente il contorno dello scavo presente lì a sponde del saccheggio quindi ragazzi per il momento è confermato quasi al 100% che il tesoro nascosto si trova proprio sotto questa barra di metallo staremo a vedere più avanti che cosa potrà riservarci chiudo però ragazzi parlandovi di questo signore che conoscete sicuramente il signor iron man già abbiamo visto che in fortnite la marvel ha avuto delle collaborazioni con il nostro tanto amato thanos una delle modalità a tempo limitato e a per il mio più divertente di sempre beh ragazzi voi lo sapete che il signor iron man viene interpretato nella saga da robert downy jr che cosa è successo qualche ora fa è stato visto robert downy jr con la maglietta di fortnite e la catena qua il pendolo di iron man io qua non dico nulla ma non mi sembra una coincidenza secondo me c'è sotto qualcosa e ne sarei davvero lieto se tornasse una nuova modalità a tempo limitato con marvel e fortnite beh ragazzi per oggi io ho terminato vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale codice creator xiodarone noi ci vediamo alle otto e mezza in live ciao iscrivetevi al canale